27 nazioni, 143 rappresentative per un mondiale dai grandi numeri. Come vede l'IoF questo campionato? La mia presenza qui è la risposta dell'importanza che l'IoF riconosce allo sport scolastico. Fin da Brian Porteus, il nostro precedente presidente dell'IoF, è cambiato il modo di vedere lo sport scolastico. Sicuramente è un settore nel quale dobbiamo essere più presenti e per la prima volta l'IoF ha deciso di inviare un delegato nella persona della sottoscritta per tutta la settimana delle gare a Palermo. Questo è il segnale dell'importanza che riconosciamo ai giovani e allo sport scolastico. Ma la specialità del Trello riuscirà a entrare in questo campionato, in questa manifestazione? Sicuramente questo dipende molto dalla disponibilità delle scuole di organizzare questo settore per noi così importante ma anche così delicato. Quindi qui il lavoro non è soltanto della federazione internazionale ma anche della volontà dei singoli ministeri di includere questo sport fra le nostre attività.